Eccoci qua, ragazzi bentornati sul canale, come promesso secondo contenuto di giornata inerente a Calciopoli e quello che è stato detto ieri sera a report e tutte le notizie che sono state spacciate come esclusive vedremo alla fine che in realtà non è proprio così, ho già visto che è già girata un po' circolata su internet questa cosa e la confermo, poi nel finale parleremo abbastanza nel dettaglio di questa roba qui voglio cercare di spiegarvi come sarà soddiviso questo video intanto avremo una prima parte di introduzione che è questa, nella quale vi spiego perché non ho mai parlato di Calciopoli cosa so di Calciopoli, come ho vissuto Calciopoli una seconda parte che sarà quella più corposa in cui andremo a leggere vi chiedo scusa se ogni tanto magari ci sarà magari un taglio o qualcosa del genere proverò a non far tagli per rendere tutto il più vero possibile quindi proprio passarvi questa volontà di un contenuto discorsivo però ovviamente potrei incepparmi, ho veramente una paginata di appunti impressionante in cui vado a riportarvi quello che report ha detto ieri sera per filo e per segno in ordine cronologico di quello che è accaduto all'interno della trasmissione vi invito come al solito però a guardarvi pure la puntata di report per avere più chiaro possibile tutto quello che è stato detto ieri e potete trovarlo liberamente su replay basta semplicemente fare l'accesso con le vostre credenziali basta registrarsi, io l'ho fatto tramite il mio profilo facebook vi dico subito che per quanto mi riguarda report non è una trasmissione così affidabile voglio metterlo subito perché il giornalismo di inchiesta implica è proprio un giornalismo che va alla ricerca di qualcosa da dire anche se non c'è qualcosa da dire andremo poi nel dettaglio a spiegare il perché questa affermazione e invece un'ultima parte di riflessione finale nel quale andiamo a raccontarci tra di noi tutto quello che è venuto fuori tutto quello che invece c'era già su Calciopoli vi lascio dei timestamp comunque qui sotto nella descrizione del video se avete già visto il servizio di report e volete saltare la parte in cui racconto quello che hanno detto potete andare direttamente alla fine però ovviamente sappiate che mentre commento determinate cose poi andrò anche a rivelare quella che è un po' la mia opinione a proposito di quello che è stato detto di quello che si è sentito da parte di alcuni protagonisti intervistati c'era un'altra cosa che vi volevo dire non me la ricordo iniziamo dicendo più che altro che io di Calciopoli non ho mai parlato per un motivo non l'ho vissuto in prima persona sulla mia pelle non l'ho vissuto perché ero troppo piccolo il 25 luglio 2006 il giorno prima dell'assegnazione dello scudetto all'Inter io andavo a compiere 14 anni quindi stiamo parlando veramente di un ragazzino che certe cose non le poteva sapere non le poteva comprendere mi sono fatto una mia idea negli anni andando a recuperare cercando anche di trovare delle fonti non troppo di parte perché non era quella la mia opinione, la mia volontà volevo semplicemente capire che cos'era accaduto in questi anni per quanto io non sia dell'idea che una trasmissione come report sia una trasmissione di un certo tipo credo che sia stato fatto un riassunto abbastanza buono con anche sicuramente delle interviste magari esclusive effettivamente in cui sono state dette alcune cose credo che sia stata dipinta la volontà da parte di report di far una roba di questo tipo infatti vi dico che mi è venuto in mente parlare di Calciopoli nel 2023 è abbastanza anacronistico è abbastanza anacronistico perché stiamo parlando di una vicenda che andrà a compiere 17 anni quest'anno l'anno prossimo diventerà maggiorenne quindi perché parlarne oggi? questa è la domanda principe che vi faccio e poi arriveremo a rispondere alla fine se siete tutti pronti io direi di iniziare partendo da Carraro Franco presidente della Federcalcio di quegli anni che pre-Inter Juventus del 2004 in una conversazione telefonica con Bergamo Paolo disegnatore arbitrale di quegli anni dice mi raccomando non si aiuti la Juventus per carità di Dio e già questo potrebbe essere uno slogan abbastanza importante di quello che è Calciopoli che è stato effettivamente Calciopoli di quello che è diventato Calciopoli nella cultura di massa del nostro paese ma andiamo avanti Cellino Massimo presidente del Cagliari noi presidenti eravamo tutti spaventati era un momento di terrore nel calcio sapevi con chi stare con i buoni o con i cattivi e il cattivo numero uno era ed è Luciano Moggi Moggi consegna una chiavetta USB ad Andrea Agnelli durante l'ultima assemblea degli azionisti in un discorso in cui dice qui dentro c'è tutto Calciopoli mi fa ridere vedere che la chiavetta sia forma di animaletto e che si parli di Calciopoli all'interno di una chiavetta a forma di animaletto ma la stessa chiavetta per file contenuti viene consegnata appunto alla redazione di Report Report dice Luciano Moggi è un furbacchione ci ha fatto passare alcuni contenuti come esclusivi anche se questa chiavetta era già girata Report fa passare per inedito alcuni file appunto contenuti nella chiavetta parti che svelano un'altra faccia di Calciopoli fino adesso rimasta nell'ombra secondo Report Moggi dice ci sono le voci di tutte qui dentro 170.000 intercettazioni totali su Calciopoli soltanto 25 ricordavano la Juventus Moggi e Giraudo partecipavano alla predisposizione di grigli arbitrali manovrate da Bergamo e Pairetto nessuna partita prese in considerazione era stata condizionata e la singola posizione degli accusati si è risolta con assoluzione prescrizione e sospensione di condanna dice il Report la giustizia sportiva ha radiato a vita Moggi e Giraudo e ha penalizzato la Juventus con la Serie B eppure qualcuno l'ha fatta franca la storia comincia il 5 maggio 2002 quando l'Inter perde in casa della Lazio lo scudetto che vince la Juventus questa è la ricostruzione di Report quindi per arrivare a Calciopoli parte da più indietro il 5 maggio 2002 è diventato famoso per la canzoncina lo scudetto perso dall'Inter io ero un bambino avevo 10 anni quindi assolutamente non posso aver vissuto quelle cose ma nel 2002 Moratti chiama Bergamo io vorrei fare una cena insieme a lei e parlare Bergamo dice sono andato a casa sua i primi di luglio ci mettiamo a sedere io lui e le rispettive moglie nemmeno 5 minuti mi fa ti devo dire e mi fa lei mi deve dire perché gli arbitri ce l'hanno con l'Inter e perché noi non vinciamo mai sosteneva Moratti che mandasse arbitri lo stile all'Inter per farla perdere ora secondo me ci sono già delle cose che sono clamorose il presidente un patron di una squadra di Serie A che va a cena con il disegnatore arbitrale la possibilità che queste due persone si incontrino in un luogo appartato in un luogo privato a discutere di X Y o Z già questo è allucinante eppure in quegli anni era la normalità una normalità che secondo me è disarmante Moratti condivide gli stessi dubbi con Giuliano Tavaroli ex brigadiere della stazione anticrimine dei Carabinieri di Milano ex assistente alla sicurezza di Pirelli e Telecom Italia consiglio la lettura di quello che è stato lo scandalo Telecom Sismi su Wikipedia vi lascio magari il link qui sotto dove si parla appunto di Tavaroli alleggo tra l'altro in descrizione anche un articolo della Gazzetta dello Sport scritto da Marco Ilari al 30 settembre del 2012 quindi non recente ma nemmeno vecchissimo dove si parla appunto di Moggi di Tavaroli e di Moratti lo stesso Tavaroli diceva l'operazione Ladroni mi fu commissionata da Massimo Moratti poi venne gestita con Giacinto Facchetti che in quegli anni era il presidente dell'Inter aggiungo il legame tra Telecom e Inter si allarga poi al gruppo Pirelli e da qui potremmo tirare in ballo tanti nomi e tanti cognomi conosciuti come i vari Tronchetti Provera Guido Rossi e tutti i rapporti che ci sono stati con Moratti con l'Inter e con tutti i dirigenti del club nero azzurro dice a Tavaroli l'Inter si rivolge a Pirelli noi gli forniamo il fornitore polis distinto una società di investigazione tradotto l'Inter si affida a questa società di investigazione per capire che cosa succede all'interno del calcio italiano del perché l'Inter non vince mai gli arbitri ce l'hanno davvero con l'Inter Nuccini arbitro durante il processo a Calciopoli dice ci troviamo a Reggio sull'autostrada a Torino-Milano ed entriamo in un hotel in camera dopo qualche minuto entra Moggi telefona disegnatori Bergamo e Pairetto e dice loro che io devo essere trattato bene e valorizzato in serie A Moggi all'interno di questa trasmissione nega che questo incontro sia avvenuto in tali circostanze e Moggi dice ti pare che lo vado ad incontrare in un albergo quando abito così vicino Tavaroli ricostruisce l'accaduto si rivolge ai Carabinieri che è questo fascicolo che finisce sulla scrivenia di Hilda Boccassini ex magistrata e procuratrice presso il tribunale di Milano Lucini viene nuovamente interrogato dai PM ma la denuncia cade poi nel vuoto per assenza di fattori rilevanti l'indagine richiesta da Moratti però continuano dopo Moggi si scava appunto nelle vite di Bergamo e degli altri arbitri Moggi rivela che Moratti non voleva indagare su di lui era considerato un amico Moggi e Moratti si consideravano amici tra di loro fu Facchetti ad insistere per far intercettare Moggi per averle Moggi monitorato all'interno di questa intercettazione all'interno di questa indagine Bergamo conferma queste indagini non erano legali l'operazione di ladroni poi finisce in tribunale Report parla di accordo segreto rimasto segreto fino ad oggi dove Inter Telecom Italia Pirelli e Polis Distinto si ritrovano costrette a risarcire questa attività illecite di investigazione tradotto un giorno uno si sveglia e dice secondo me tizio ok se un pro non ce l'hanno con me inizia ad indagare all'interno delle loro vite chiedete a Bobo Vieri chiedete a Bobo Vieri che più di una volta ha parlato di queste cose ora rendiamoci conto un cittadino come un altro da un momento ad altro si ritrova intercettato indagato perché un altro si è svegliato e secondo lui andava fatto così è qualcosa di abbastanza allucinante stiamo parlando di indagini non legali stiamo parlando di appunto attività illecite dove Inter Telecom Italia Pirelli e Polis Distinto sono stati costretti poi a risarcire queste persone tutto questo però si ferma a Milano l'operazione ladroni come era stata intitolata si ferma a Milano intanto la procura di Napoli apre un'inchiesta su due arbitri un'inchiesta chiamata Offside che è un po' la scintilla che poi crea il fuoco che diventerà Calciopoli abbiamo un ex carabiniere che parla a volto coperto e dice mettendo sotto controllo questi arbitri venivano sempre fuori gli stessi nomi sempre loro la questione è nata quando il Napoli andò in Serie B il magistrato che ha seguito tutto quanto stava sempre in tribuna a seguire il Napoli quindi un tifoso un magistrato tifoso per il Napoli e non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista aggiunge il carabiniere però quando il Napoli andò in Serie B credo che se la sia un po' legata non posso fare altro personalmente di pensare a Santoriello e le simpaticissime battute che sono venute fuori in questi giorni tanti ha fatto sorridere come è fatto invece per me è stato qualcosa di inquietante Del Piero pochi giorni fa a Paramount Plus parlava di quanto la Juve sia odiata lo sa bene lui lui l'ha già vissuta questa cosa sulla sua pelle in prima persona è una storia semplicemente ciclica quando il lavoro viene messo in secondo piano in favore della fede nasce l'abuso di potere quindi non è tanto un problema che ci sia qualcuno che ti fa Napoli qualcuno che ti fa Inter qualcuno che ti fa Juve ma quando viene messo il tipo il tifo scusate di fronte a quello che dovrebbe essere il compito da realizzare sul posto di lavoro allora non va bene Moggi rivela Berlusconi mi disse che ero intercettato mi disse anche non c'è niente di penale quindi tranquillo non ci sono problemi stiamo a vedere come Moggi e Berlusconi si parla spesso e volentieri ehi attento si è intercettato Moggi e Moratti sono amici anche se Moratti c'ha il dubbio perché l'Inter non vince mai cerchiamo di capirlo e Facchetti cerchiamo di mettere sotto controllo Moggi la domanda è perché perché probabilmente lato Inter si aspettavano che ci fossero delle delle aggivolazioni da parte degli arbitri in confronto della Juve per via di Moggi che cercava di fare un attimo una collante andiamo avanti con il racconto perché a un certo punto la Roma di Sensi mette al servizio delle indagini l'ex direttore sportivo Franco Baldini al telefono con Innocenzo Mazzini ex presidente della Federcalcio dice ascolta ti dico una cosa Innocenzo forse se ti comporti bene quando farò ribaltone e lo farò perché io vivo per fare questo ribaltone io ti salverò forse frase pesante abbastanza pesante da dire a un presidente della Federcalcio da parte di un tesserato di una squadra Baldini però si rivelerà non solo un dirigente della Roma infatti l'ex carabiniera il gruppo operativo di Roma rivela che Baldini era una fonte segreta dei carabinieri Baldini dice il carabiniere è venuto in caserma sette otto volte parlava soltanto con Auricchio chi è Auricchio ex maggiore dei carabinieri che dirigeva la caserma di Via Inselice a Roma da cui partì poi tutta Calciopoli è qui che nasce Calciopoli in questi uffici in questi momenti noi ufficialmente non avevamo un cazzo in mano dice questo carabiniere il comandante ci diceva di continuare a mettere sotto controllo altre persone probabilmente per cercare di trovare effettivamente qualcosa che poi non andasse Baldini voleva fare il ribaltone Moratti si era iniziato a girare qualcuno si era indispettito per i risultati sportivi della propria squadra chi vinceva in quegli anni la Juventus andiamo avanti il 16 maggio in Italia Prodi diventa presidente del consiglio nello stesso giorno il commissario della Federcalcio diventa Guido Rossi l'abbiamo già nominato ricordate ex membro del consiglio di amministrazione dell'Inter e che un anno dopo diventerà il presidente di Telecom Italia dicevo ne abbiamo parlato prima quando si era partiti a parlare di Moratti Pirelli eccetera tutto insieme Rossi formerà poi il gruppo che andrà a prendere la decisione di assegnare il controverso Scudetto del 2006 all'Inter un ex dirigente dell'Inter che decide di assegnare lo Scudetto all'Inter all'interno di un ciclone che coinvolgeva le squadre del campionato di Serie A la prima non coinvolta fu l'Inter ma poi vedremo che Canaro Franco ex presidente della Federcalcio svela che Guido Rossi è stato suggerito al CONI da qualcuno del governo o da parte della maggioranza di Prodi che si era appena venuta a creare Marcello Lippi nega che Guido Rossi non lo volesse in più i nazionali insieme a Buffone a Cannavarro invece Moggi conferma questa questione dice ho dovuto parlarci con queste persone fare in modo di farle andare comunque il nazionale perché comunque si era creato questo a lunedì ognuno tira l'acqua al suo mulino ognuno ha la sua versione dei fatti Report parla di testimonianza inedita secondo cui il sistema Moggi fu smontato poi dal fuoco amico accordo industriale tra Tronchetti Provera e Luca di Montezemolo iniziano a incastrarsi delle cose un po' particolari Montezemolo uomo Fiat Ferrari con rapporto stretto con la famiglia Agnelli e con gli Elkan io ho saputo prima che volessero far fuori Moggi e Giraudo me lo disse l'onorevole la torre in una telefonata mi disse fai attenzione e l'onorevole la torre conferma tutto questo tutto quello che viene detto da Bergamo Bergamo dice l'accordata si era formata Montezemolo Grande Stevens Gabetti ed Elkan e gli Elkan che volevano portare John Elkan a capo di Fiat la presenza però di Giraudo e di Moggi prevedeva che Andrea Agnelli sarebbe poi andato a capo di Fiat era appena morto Agnelli si stava dividendo un po' quella che era l'eredità si stava cercando di capire dove posizionare i nipoti i figli all'interno dell'organigramma di tutto quello che è stato lasciato poi al futuro Giraudo ha passato tutta la vita come consulete di Umberto il padre di Agnelli di Andrea Agnelli e quindi si era creata questa sorta di derby interno con da una parte Montezemolo che voleva John Elkan presidente di Fiat e dall'altra Giraudo e Moggi che volevano invece metterci Andrea Agnelli Giraudo infatti era anche amministratore di una società di Umberto Agnelli ancora oggi proprietà di Andrea e Moggi qui inizia a parlare di questo fuoco amico perché qui il report la fa passare come una sorta di esclusiva ma di esclusiva non si tratta io questa storia l'ho già sentita mille milioni di volte in tutte le salse ed è una delle cose più dibattute dai tifosi gioventini che hanno vissuto Calciopoli in quegli anni e tuttora ci sono dei tifosi che sono convinti che sia andata così dei tifosi che sono convinti che sia andata con la Moggi dice il difensore della Juventus l'avvocato Zaccone è andato a processo a chiedere la serie B con penalizzazione per la Juventus Cesare Zaccone avvocato che si spense 14 mesi fa 94 anni disse che la Juventus rischiava la serie C per via degli illeciti chiese quindi la B per salvarla in effetti la prima in assoluto la prima richiesta per la Juventus era una categoria inferiore alla serie B con diversi punti di penalizzazione questo non significa poi che quella pena sarebbe stata corretta ad essere applicata perché la Fiorentina stessa doveva essere retrocessa in serie B con tot punti di penalizzazione l'Alasio stessa doveva essere retrocessa in serie B con tot punti di penalizzazione il Milan stesso doveva essere retrocesso in serie B con tot punti di penalizzazione la prima richiesta era stata pesante pesantissima per tutti quindi l'avvocato Zaccone dice questa cosa però la Juventus aveva sì sicuramente una posizione scomoda ma da qui a chiedere la serie B con penalizzazione probabilmente Giacomo Stemmuti ce n'è passata quindi il club ritira il ricorso al TAR accetta la retrocessione in serie B anche per via delle esternazioni dell'ex presidente della FIFA Blatter che minaccia di escludere la Juve per 5 anni dalle competizioni europee anche qui vi ricorda qualcosa l'altro giorno quando vi parlavo di gravina e del mio stupore per via della nomina in UEFA lo devo proprio a questioni simili perché guarda caso poi l'Italia adesso vorrebbe ospitare un europeo nel prossimo decennio nel caso non metterei a disposizione l'Alliance come tanti nifosi hanno già giustamente detto per quanto mi riguarda l'Alliance non dovrà essere compreso all'interno di questo torneo nel caso credo sia giusto così di proprietà si può scegliere come no Blatter successivamente ringraziò in un'intervista alla Repubblica Luca De Montezemolo per la decisione che aveva preso e Report giustamente si fa la domanda che ci siamo fatti che i tifosi gioventini si sono fatti per anni è stata salvata la Juve da una condanna peggiore o furono fatti fuori i dirigenti ok la storia è ciclica ora ci sono diverse filosofie di pensiero diverse sfocature di pensiero su questa cosa qui tuttora ci sono dei tifosi che dicono Elkan ha accettato ha voluto retrocedere la Juventus in Serie B per far fuori Moggi Giraudo e Bettega e ora invece sta cercando di rimediare a quell'errore combattendo questa volta stiamo parlando comunque di 17 anni fa Elkan era molto giovane sicuramente non ha preso lui le decisioni sicuramente sono state delle persone che hanno consigliato sicuramente Montezemolo potrebbe essere stato molto influente all'interno di questo percorso c'erano dei conflitti di interessi potenti all'interno della famiglia Agnelli e all'interno di tutto quello che appartiene alla famiglia Agnelli questo credo che sia evidente sotto gli occhi di tutti Bergamo disse riuscire ad essere ricevuto dall'avvocato degli Agnelli Galasso che disse io sono tifoso della Juve e in Casagnelli si è preso in giro 10 milioni di tifosi facendo passare facendo apparire delle cose che noi sappiamo non essere vere dopo le dimissioni di Rossi la Lega cambia i vertici esce Galliani entra Cellino come presidente temporaneo cercavo di tenere la baracca in piedi perché tutto stava crollando dice Cellino io ero tra i più giovani e dovevo cercare di pulire tutte le schifezze che c'erano in Lega ma non sapevo da dove iniziare c'era un contenitore di metallo grosso con tutti i dossier e i documenti delle società che si erano iscritte ai campionati con fiduizione falsa o con società che non coprivano i contributi Irpef andammo nel piastale giù buttammo tutto dentro un medone di ferro e bruciammo tutto quando vennero a cercare quei faldoni non c'era più un cazzo Cellino questa roba dice poi io non c'ero però andammo facemmo però io non c'ero e Cellino lo dice ridendo ma per me non c'è un cazzo da ridere perdonatemi il francese ma per me non c'è un cazzo da ridere perché questa è una roba gravissima è qualcosa di penale il che significa che sono state bruciate delle prove che la Guardia di Finanza non è stata più in grado di trovare Cellino ce la vende come un ho salvato il calcio la baracca stava crollando dovevo fare qualcosa questo qualcosa è stato illegale questo è stato qualcosa che va contro la legge e viene raccontato con una grossa e grossa risata come se fosse stato hai visto ho risolto tutti i problemi hai soltanto nascosto la polvere sotto il tappeto e l'hai fatta far franca a qualcuno che forse non meritava di farla franca apro e chiudo parentesi tra cui Cellino stesso potrebbe pur essere secondo me non c'è veramente niente niente da ridere nel 2011 dalle carte della procura federale emerge che ci sarebbe stato da indagare anche su altre dieci squadre tra cui l'Inter di Facchetti e di Moratti Palazzi il procuratore dell'epoca disse che due avevano messo in piedi una rete consolidata di rapporti di natura non regolamentare diretti da alterare i principi di imparzialità e indipendenza del settore arbitrale finalizzati ad assicurare un vantaggio sportivo in classifica parlando di qualcosa di grave qualcosa che è stato associato a Moggi alla Juventus di quello che poi è stato pagato dalla Juventus e da Moggi non vi furono accertamenti su questa cosa perché ormai tutto era prescritto erano passati troppe anni sempre su wikipedia vi lascio comunque sempre il link qui sotto in descrizione vi invito a recuperare l'intera pagina su Calciopoli dato che c'è un paragrafo anche su Calciopoli perché sta roba oggi viene messa qui e viene spacciata come inedito ma io che mi ero documentato anni e anni fa questa cosa l'avevo già letta non mi stupisce e Guido Rossi voglio veramente vi invito a recuperare perché ci sono alcuni passaggi tra cui la comica della non competenza della giustizia sportiva a proposito di Calciopoli lì non si era competenti per parare Calciopoli su Calciopoli sì lì c'era della competenza sul bis c'era la competenza Guido Rossi disse che ai tempi del primo Calciopoli non fosse a conoscenza come Federcalcio delle intercettazioni riguardanti l'Inter Guido Rossi ricordiamo lo ex dirigente dell'Inter futuro presidente Telecom Italia quando si parla di intercettazioni telefoniche queste parole probabilmente lasciano un po' perplesse visto che l'Inter alla fine non rinunciò alla prescrizione come si auguravano invece tra gli altri palazzi perché l'Inter non rinunciò alla prescrizione per quale motivo perché conveniva fare così molto probabilmente perché conveniva fare così a me questa storia francamente riporta ai giorni nostri dove la Juve è stata processata e penalizzata prima delle altre ora le altre procure si stanno muovendo ma siamo ancora una volta in ritardo perché non si fa una cosa univoca se vuole fare un processo al calcio italiano e si pensa che ci sia qualcosa che non vale al calcio italiano facciamo un processo univoco al calcio italiano coerente e invece no perché non si attende la chiusura di tutte le indagini ieri ieri la regina è stata penalizzata di tre punti per il mancato pagamento di ingaggio e di IRP ieri eh non un anno fa ieri Cellino rideva di fronte al falò dei faldoni incriminati di IRP di deduzioni false escrezioni al campionato magari non regolamentate ora la Juve rischia per una manovra stipendio dove comunque ha saldato la parte che doveva i calciatori perché l'ha saldata e dove ha ancora delle pendenze dove sono state firmate delle carte private e la Juve rischia su queste cose qui perché non ha segnalato non ha regolamentato queste cose tre punti per non aver pagato stipendi IRP vedremo il filone stipendi della Juventus dove probabilmente c'è qualcosa dove la Juve non ha fatto dove la Juve non è stata coerente con quello che è il regolamento però vedremo perché la pena deve essere afflittiva per la classifica quindi per quanto mi riguarda la giustizia sportiva si rivela carta straccia e poco univoca come poi sono stati anche un attimino gli esiti del primo calciopoli quello originale non del bis dove lì non si poteva intervenire siamo mica competenti per parlare di certe cose stesso Milan che doveva essere retrocesso con punti di penalizzazione arriva comunque a giocarsi preliminari di Champions League Champions League che vincerà sul campo con merito però se la pena deve essere afflittiva allora deve essere afflittiva invece non è stata afflittiva nemmeno per le coppe europee da parte del Milan sono cose che fanno un po' storcere il naso come vedremo anche successivamente comunque all'interno di questa storia Mogi non era un santo attenzione partiamo da questo presupposto sentivo oggi il video del buon Romeo Agresti mi ha fatto ridere quando diceva la Juventus non era una verginella e Mogi non era alto biondo con gli occhi azzurri perfetto perfetto definizione perfetta così probabilmente come non lo è stato Agnelli in questi anni Agnelli è diventata una figura scomoda in questi anni tra i ricorsi per calciopoli bis e le battaglie europee contro la UEFA la storia si ripete e ripeto perché tutto questo torna fuori proprio oggi lo diremo nel finale Carraro dice l'Italia era imprenditorialmente un paese importante il calcio italiano oggi è meno importante perché l'Italia è meno importante a livello imprenditoriale ma è questo quanto è vero ma mica solo in Serie A è mica solo a quei livelli lì anche nelle leghe minori dilettantistiche vi dico io gioco a livello amatoriale ma il calcio amatoriale e quello dilettantistico oggi in Italia rischia di morire sono portati avanti soltanto dalla passione di chi ha quella voglia di calciare il pallone nonostante lo stress del lavoro e magari togliendo tempo agli affetti della famiglia perché diversamente il calcio in Italia a questi livelli è terrificante siamo a dei livelli in cui si rischia veramente di chiudere baracca a burattini il prima possibile senza dover bruciare dei faldoni facendosi una grassa risata su qualcosa di penale Berlusconi e Cellino discutono di questa cosa politica Berlusconi voleva Cellino in politica Cellino accetta ricandidarsi soltanto in cambio di un richiamo agli arbitri che secondo lui penalizzavano il Cagliari quanto è grottesco un racconto di questo tipo sempre tra le risate qualcosa di divertente dai va bene mi candido in Sardegna però facciamo in modo che gli arbitri inizino e allora Berlusconi chiede a Pisano di chiamare Carraro perché bisognava essere qui nei confronti del Cagliari soltanto perché lui si era deciso di candidare in politica solo per quello mica perché la base dello sport è questa per quello Pisano Giuseppe ministro degli interni nel secondo e nel terzo governo Berlusconi dice ma dai chiamiamo moggi che è meglio una grassa risata tutti insieme evviva chiamiamo moggi che è meglio capite quanto è grottesco quello che diceva Romeo è giustissimo moggi non è alto biondo con gli occhi azzurri stiamo parlando di una persona che ha fatto cose che non andavano fatte così come non le faceva solo moggi pare di capire da questa ricostruzione di report mi pare anche di capire che queste non siano novità perché probabilmente non si è seguita al meglio la vicenda diciamo così cerchiamo di tenere le conclusioni alla fine moggi dice pisanu era mio amico e già da ragazzini ci davamo del tu io non ho mai minacciato nessuno non avevo voglia di minacciare facevo però sentirla di autorità moggi ha questo tipico comportamento vagamente mafioso e io lo penso da sempre da quando ho memoria che vedevo moggi mi dava questa impressione e sicuramente le azioni che ha compiuto all'interno di quello che è stato contestato in calciopoli lo mettono su quel piano lì non è girarci intorno per quanto mi riguarda è così le sim svizzere dice moggi lo date solo a Bergamo e Pairetto nelle chiamate avevo detto che c'era un sistema appunto su queste sim e Bergamo dice Pairetto mi portò una scheda quando abbiamo bisogno di parlare di arbitri di queste cose usiamola me l'ha data moggi o rischiamo di essere intercettati provai ad utilizzare una settimana poi la diedi a mia moglie Bergamo fa tanto il vago fa tanto l'innocente ma c'era dentro era dentro con le mani nella marmellata anche in queste interviste lui continua a dire fare mettersi in quella posizione di di estranei fatti ma si succedevano queste cose ma queste cose erano gravissime e succedevano perché si permetteva di farle queste cose sempre il carabiniere pentito dice c'è una dichiarazione che ricordo benissimo perché l'ho fatta io falsa di decillis decillis era quello che aveva il negozio di telefonia e fu lui a vendere le sim a luciano moggi tramite appunto un aggancio il carabiniere conferma che le sim si trovavano in svizzera e non a como come era stato sottolineato andarono a prenderle in maniera illegittima dicendo che invece le avevano trovate lì le schede svizzere confermano il quadro accusatorio e pm che consideravano moggi il vertice di un'associazione delinquere finalizzata alla fraude sportiva la giustizia lo dichiara colpevole quella sportiva lo va a radiare a vita quella ordinaria con due anni e quattro mesi di reclusione ma poi il reato cade in prescrizione oh che bella la giustizia è proprio meravigliosa meravigliosa poi quella sportiva e quella ordinaria è sempre su due binari paralleli sempre ancora più bello sempre ancora più meravigliosa moggi descrive un doppio nemico appunto uno dentro e uno fuori dalla juventus uno che voleva cambiare i vertici bianconeri l'altro esterno pronto a distruggere la società moggi viene inoltre accusato di sequestro di persona in un'intercettazione dove si vanta di aver chiuso un arbitro nello spogliatoio si parla di paparesta fake news che verrà appunto smentita dallo stesso ex fischietto ora è passata la storia come una verità eh parlate di qualcuno di moggi di calciopoli paparesta gli arbitri di chiuso nello spogliatoio questa è rimasta qui nell'immaginario collettivo moggi invece stava semplicemente fingendo di averlo più grosso di tutti a bologna si usa un termine sborone faceva lo sborone moggi faceva lo sborone ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio così impara adesso ha capito chi comanda sicuramente un atteggiamento mafioso sicuramente un atteggiamento che si può ricondurre alla mafia paparesta dice non accadde vennero moggi e giraudo a lamentarsi quello si non segnalai della protesta così come non segnalai una chiusura negli spogliatoi ma è avvenuta non segnalai perché ci furono altri dirigenti nello spogliatoio di altre squadre e non stai lì a sottolinearli come il maestrino paparesta un altro di quelli che nell'intervista sembra il santo sceso in terra invece le mani la marmellata c'erano anche da parte sua l'unico fischietto condannato fu De Santis che aveva alterato il risultato delle due partite Lecce-Parma e Fiorentina-Bologna la procura sportiva invece chiude il fascicolo dicendo che nessuna partita del campionato 2004-2005 era stata alterata magia sempre più bello l'ex procuratore di Napoli Gian Domenico Lepore tra l'altro oppo chiude a parentesi cuore azzurro tifoso del Napoli racconta incominciamo con la Juventus perché era la prima avevamo più elementi raccolti semplicemente c'erano anche altre squadre anzi c'erano quasi tutte le squadre diciamo le cose come sono un giorno poi però sull'Espresso uscirono tutte le intercettazioni e quindi automaticamente si interruppe tutto e i telefoni furono chiusi per le squadre per le quali si stava raccogliendo informazioni nessuno chiamava più al telefono perché erano uscite le intercettazioni quindi paura eh direbbe Lucarelli nessuno parlava più e rimase solo la Juventus anche se dopo la Juventus avremmo indagato sull'Inter Bergamo dice avevamo pressioni da tutti non c'è dubbio ho parlato con ogni singola squadra ci rendiamo conto che il disegnatore arbitrale arbitrale dell'epoca come se niente fosse dice avevo pressioni da tutte le squadre continuavo a parlare con tutte le squadre e la ritenevano una cosa normale normale però guarda caso queste intercettazioni a un certo punto tac nessuno chiama più perché perché esca le intercettazioni sulla Juve perché quelle c'erano già perché si era già mosso qualcosa 20 aprile 2005 Juventus 0 Inter 1 arbitra De Santis al telefono con Bergamo si dicono questo l'importante è che è andata bene se no sai che casino che succedeva eh ma tu te ne esci con un campionato non d'oro di più e Bergamo conferma è andato tutto nel verso in cui accuse non ce ne possono fare tradotto la Juve è perso quindi è andata bene così Carraro e Bergamo chi c'è lì a Inter-Juve? Rodomonti mi raccomando che non si aiuti la Juventus per carità di Dio è una partita delicatissima in un momento delicatissimo della Lega per carità di Dio che non si aiuti la Juventus queste sono intercettazioni che non vengono utilizzate all'interno di quello che è stato il processo di Calciopoli queste sono intercettazioni che a quanto pare non erano rilevanti erano rilevanti soltanto le altre a quanto pare e Carraro spiega no anche con un po' la faccia come il culo mi viene da dire eh ma se sbaglia Collina nessuno dice niente Rodomonti è un arbitro senza una gran reputazione quindi sai se va lui e sbaglia contro l'Inter è un casino perché? perché i presidenti delle squadre le dirigenze le società potevano mettere pressione sugli arbitri Bergamo le vivevo come situazioni normali che dovevo affrontare quello era il mio compito gli arbitri non hanno mai saputo niente di queste pressioni e anche qui c'è la faccia come il culo Bergamo c'è la faccia come il culo a dire una roba del genere intanto per far passare questa roba come una roba normale c'è la faccia come il culo e in seconda battuta a mentire clamorosamente perché ci sono delle intercettazioni che smentiscono questa cosa perché Bergamo chiama Rodomonti e dice mi raccomando è faticato per arrivare lì per ritornare lì quindi mi aspetto che tu non vada a sbagliare niente mi fa piacere dice Rodomonti quello che ha detto è la verità è Bergamo c'è una differenza tra le due squadre 15 punti hai capito io ti dico la mia in questo momento se hai un dubbio pensa alla squadra che c'è dietro non che c'è davanti dammi retta che schifo non mi viene altro se non che schifo come lo dico per Mogi lo dico anche per questa roba qui Rodomonti non espele il portiere dell'Inter quello vive sul 2-0 la rimonta della squadra rimorata si concretizza e alla fine finisce tutto in pari ripeto per me tutto questo è un bello schifo e Bergamo ne parla come se fosse la cosa più naturale del mondo e questo mi fa ancora più schifo il sistema era marcio fino al midollo da parte di tanti presidenti che sapevano e si facevano andare bene le cose perché? perché c'erano tutti dentro anche il Milan nelle intercettazioni risulta essere una squadra che spingeva per avere degli arbitraggi amici nello specifico Leonardo Meani ex responsabile degli arbitri del Milan uomo vicino alla famiglia Galliani rinviato a giudizio per associazione delinquere finalizzata alla frode sportiva avrebbe infatti influenzato l'operato di alcuni arbitri anche lui condannato in primo grado anche lui prescritto tutto così meraviglioso Collina e Meani intercettate in aprile 2005 possiamo incontrarci a casa sua a casa di Galliani e Collina sai il problema è che io e lui siamo ben riconoscibili non vorrei che qualcuno ci vede e così forse l'ideale sarebbe una serata di chiusura nel tuo locale perché Meani aveva un ristorante e Meani esatto a Lodi Collina una volta che entro nel parcheggio del tuo ristorante non ci vede nessuno cancello chiuso Meani non era strano Galliani rivestiva il doppio ruolo di vicepresidente del Milan e comunque anche presidente della Lega Calcio io qua ci posso anche stare non abbiamo idea di perché si siano incontrati Galliani e Collina però sicuramente non è qualcosa di logico dipende in quale veste si sono incontrati può essere precauzione non volersi incontrare di persona perché poi la gente potrebbe parlare e pensare male ci sta questo lo considero abbastanza logico però poi Galliani dica a Paparesta allora che il dossier è nelle mani di Letta e Meani perfetto Galliani mi ha detto che conosce la vicenda che interverrà e Meani Paparesta viene a Milano mi parla di un'azienda di energie rinnovabili per la quale lavora perché gli arbitri in Serie A comunque hanno anche un altro lavoro voleva far arrivare questo studio agli uffici della presidenza del consiglio e mi ha chiesto un favore Paparesta meno male oggi conferma e dice era una cosa inopportuna per l'amore del Signore grazie al cielo oggi diciamo una roba del genere come era inopportuna oggi e come è inopportuno oggi era inopportuno ieri però sai che non ci facciamo fare un favore da un dirigente del Milan per far arrivare sulla scrivania della presidenza del consiglio un certo dossier che mi potrebbe tornare utile a livello lavorativo io faccio un favore a te e poi chissà magari tu fai un favore a me Meani Letta conosceva già e Paparesta come ti avevo detto Meani adesso tu puoi dire ai clienti la tua roba mi ha appena chiamato Galliani ti saluta tanto Paparesta accusato di favorire il Milan durante le gare e Meani spiega a fare le partite prendevano 5.000 euro a partita in Serie A se qualcuno poi rompeva il cazzo e diceva come ti chiami te ah tal dei tali perfetto e faceva pressione per tenerti fermo due mesi se per due mesi non abitare più in Serie A in due mesi perdi sei partite e sono 30.000 euro sono soldi per questo poi l'arbitro a un certo punto magari doveva scegliere da che parte stare doveva scegliere che cosa fare era tutto un magna magna era tutto così bello era tutto così magnifico era tutto così coerente tutto così italiano anche diciamo così Lottito la Cassazione scrive che sono state numerose le telefonate con pressione agli arbitri Lottito si inserisce nelle dinamiche alla successione in FIGC per garantire il salvataggio dell'Alassio lo dicevo prima l'Alassio la prima condanna retrocessione in Serie B e tot punti di penalizzazione in un'intervista un giornalista e Meani qui dicono che con De Santis l'Inter non vince Meani lo so anch'io giornalista lo sai anche tu Meani io ho avuto due parole anzi sempre giornalista non ti dico con chi te lo dirò a voce ma mi dicono che il Milan ha lavorato male si sono trovati De Santis sulle palle e Meani quelli del Milan deve svegliarsi quelli dell'Inter dirigenti dell'Inter dovrebbero capire che quell'arbitro non va bene dovrebbero parlare non è quelli del Milan e il giornalista sì ma quella qui la posta in paglia non è più dell'Inter quella del Milan quindi quelli del Milan hanno dormito e Meani io quando ho giocato Milan-Juve De Santis non l'avevo neanche in griglia ho preso il telefono e ho detto se c'è in griglia De Santis spariamo i cannoni e Meani anche qui con la faccia come il culo ah sì ho detto questo non me la ricordo di questa telefonata ma certo ci mancherebbe altro che un dirigente del Milan si ricordi che proprio quella telefonata di ricordarsi in cui parlava di un arbitro scelto che non voleva ma no ma figurati Meani però lo sente De Santis al telefono e De Santis si bulla ho fatto fare il silenzio stampa la Juventus ti rendi conto non c'era mai riuscito nessuna storia e Meani ma solo io ti voglio bene in questo momento chissà se questa se la ricorda oppure no Facchetti a Bergamo ho guardato lo score dell'arbitro Bertini con noi quattro vittorie quattro pareggi quattro sconfitte Bergamo porca miseria allora facciamo 5-4-4 ma vittorie però eh il disegnatore arbitrale che dice una vittoria però eh e Facchetti diglielo che è determinante domani e Bergamo è un ragazzo intelligente ha capito come si cammina ce n'è voluto di tempo però c'è arrivato anche lui Bertini dice Moratti non vene negli spogliatoi sicuramente Facchetti sì però e anche qua Bergamo ce la faccia come il culo perché dice ma sì ho fatto una battuta alla Livornese voleva vincere ma sì facciamo che vinca ce ne ha messo di tempo per capire come funziona ma alla fine ce l'ha fatta si è omologato al sistema schifo non ne usiste un'altra parola se non schifo 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 Carraro parla con Bergamo anche di Fiorentina e Lazio cercando di dare appunto aiuti a queste due squadre Lottito viene inibito dalla giustizia sportiva è indovinato un po' una novità trescritto da quell'ordinaria ah meraviglioso come Moggi come Meani anche Lottito accusati Bergamo Pairetto altri arbitri e dirigenti per questa richiesta di risarcimento oltre un milione di euro sono passati 17 anni nessuno ancora ha pagato un euro in attesa della Cassazione dice il report e questo è il termine del commento di tante cose che vengono riportate da report di tanti eventi che di calciopoli hanno parlato e tante cose che in realtà non sono state dette io credo che abbiate capito la mia posizione all'interno di questo riassunto di report ma cerchiamo di tirare delle conclusioni il sistema era a marcio davvero fino al midollo si parlava di un sistema calcio in cui Moggi poteva parlare con gli arbitri con il disegnatore arbitrale potevano essere amici potevano scambiarsi delle sim per parlare meglio per non essere intercettati perché poi non si sa mai c'era Berlusconi che poteva permettersi di chiedere a un ministro di parlare con il disegnatore degli arbitri con il presidente della federcalcio e dire ehi sai che questo mio amico che mi fa un favore che guarda caso ci sia una squadra di serie A ma gli arbitri devono essere un po' più comprensivi con lui ci sono dei dirigenti dell'Inter che mettono sotto intercettazione e chi gli pare ci sono dei dirigenti dell'Inter che comunque parlano con i disegnatori degli arbitri e queste cose poi vengono fuori troppo tardi e quindi chi se ne frega stiamo parlando di Juve-Milan-Inter tre squadre principali in Italia stiamo parlando di Juventus-Milan-Inter tre squadre principali in Italia che avevano le mani sporche di merda fino a qui fino a qui parliamo della Lazio parliamo della Fiorentina parliamo della Regina che è venuta fuori una seconda battuta parliamo di tante altre squadre che come ci ha detto chi ha seguito queste indagini erano praticamente coinvolte tutte ce lo dice Bergamo stesso sempre con la faccia come il culo parlavo con tutti come se fosse una cosa normale come se questa fosse una cosa normale questa non lo era perché il calcio era malato Calciopoli era necessaria attenzione Calciopoli era necessaria il problema è come è avvenuta a Calciopoli perché non sono state fatte delle pene eque per quanto mi riguarda in Calciopoli non perché se andate in Bile altre no perché è stato fatto come sempre tutto alla Carlona è il fatto che non ci siano stati abbastanza elementi per le altre squadre perché a un certo punto per la Juve avevano già raccolto tutto per le altre magicamente si è fermato perché era arrivata l'indicazione attenzione intercettazioni quella allora ragazzi se siamo qua a parlare di Calciopoli e quello che ci viene a dire è Calciopoli uguale la Juventus pagava gli arbitri credo che di questa cosa non si sia capito tanto poi ognuno è libero di pensarla come vuole questa è la mia presa di posizione però ce lo dicano i protagonisti ce lo dicano le intercettazioni ma non ce lo dica mica da ieri sera o sarei amica a questa puntata di report per tirare fuori queste cose qui assolutamente no io ripeto io avevo 14 anni ma questi nomi questi cognomi questi protagonisti queste intercettazioni anche queste unioni anche questo fuoco amico se vogliamo sono tutte cose che io ho già sentito una miriade di volte banalmente da mio papà che frequentava la curva frequentava lo stadio e quanto è stato male in quel periodo e quante volte l'ha detto e parlava di Pairetto e parlava di Bergamo e parlava di Pecoraro e parlava di Guido Rossi e parlava di Facchetti e parlava di Tronchetti Provera e parlava di Meani e parlava di Galliani e parlava di Berlusconi e parlava di Cellino e parlava di Lotito tutte per Dondarini e Paparesta e tutti gli arbitri che sono finiti all'interno tutte cose che io sento davvero da quando i primi ricordi del calcio e che all'epoca non capivo perché ovviamente non conoscevo le dinamiche non conoscevo i protagonisti ma è stata un paio di giorni di ricerche su internet prendendo un po' di qua un po' di là cercando di fare il punto della situazione su quello che è stato Calciopoli Report ieri ha fatto un contenuto che voleva andare decisamente in questa direzione pro Juve e per pro Juve non intendo attenzione la Juve era innocente l'hanno fatta pagare poverina poverino Moggi che è diventato la pecora nera del calcio in Italia l'anima nera come viene definito perché questo non è quello che penso non è assolutamente quello che penso ripeto per me Calciopoli era indispensabile perché c'è stata della merda della merda che è stata necessaria è stato necessario bruciare all'interno di un contenitore di metallo la merda vera su Calciopoli però è quella che non è stata detta non quella che è stata detta perché una storia la conosciamo tutti di Calciopoli a volte anche arricchita con aneddoti meravigliosi come paparesta sequestrato ma a grandi linee è una storia vera è una storia che è accaduta è una storia dove comunque la Juventus ha pagato come società quello di Calciopoli che che fa male è quello che non è stato raccontato di Calciopoli quello che che veramente rimane lì e e di tante persone che davvero l'hanno fatta franca quando probabilmente non meritavano di farla franca in chiusura chiedo scusa perché sono passati quasi 50 minuti e sapevo che sarebbe stato un contenuto lungo non immaginavo così tanto in chiusura perché perché proprio oggi lo dicevo inizio video è anacronistico perché parlare di Calciopoli il 17 il 18 di aprile del 2023 cosa accade domani 19 aprile 2023 sentenza del CONI per la restituzione dei punti oppure no alla Juventus perché perché adesso coincidenza sì o no io credo che siate troppo intelligenti per dire sia una coincidenza perché non è una coincidenza perché in questo momento sta accadendo tutto quello che era già accaduto con Calciopoli c'era un sistema in Calciopoli in cui erano coinvolte le squadre ma le squadre non sono composte dai colori dei giocatori le squadre sono composte dai dirigenti dalle persone che decidono di fare determinate azioni a volte in concomitanza con la politica a volte collegate alla politica a stretto contatto con la politica perché tutte le persone che hanno influenza comunque in Italia hanno potere hanno potere perché sono legate a dei politici che a loro volta hanno potere Moggi aveva potere Meani aveva potere Berlusconi aveva potere Galliani aveva potere Facchetti aveva potere Moratti sembra quasi in questa storia quello che che cade dalle nubie e continua a interrogarsi nella sua stanza ma perché ce l'hanno con noi ma perché nel frattempo comunque l'Inter faceva le stesse cose delle altre squadre con Moratti che probabilmente davvero poteva anche non esserne al corrente di questa roba perché in quegli anni non era presidente dell'Inter ma nel frattempo continuava a interrogare ma perché mentre comunque l'Inter incontrava muoveva faceva come testimoniato appunto nel 2011 a Palazzi però sai cose cadute in prescrizioni oggi il calcio italiano si ritrova alla vigilia di un'altra lotta eh attenzione di un'altra lotta che si sono voluti creare perché qua stiamo parlando di qualcosa di grave come l'alterazione dei risultati sportivi come le pressioni nei confronti degli arbitri dei ricatti dei ricatti nei confronti degli arbitri se sbagli stai fermo e non guadagni più ce ne sarà un altro ne troverò un altro che avrà voglia invece di quei soldi lì di guadagnare i soldi sporchi troverò un altro che avrà voglia ma tanto siamo tutti così in serie il presidente della Juve il dirigente della Juve il dirigente del Milan il dirigente dell'Inter il dirigente della Lazio il dirigente della Fiorentina i dirigenti delle squadre che non sono state citate all'interno di questo dialogo di quello che è accaduto perché andava a bene a tutti andava bene a tutti perché erano tutti sulla stessa varca erano tutti con le mani sporche di merda erano tutti con le mani sporche di merda io credo che non sia un caso che il calcio in Italia dopo il 2006 abbia vissuto una flessione verissimo quello che diceva prima non mi ricordo se Carraro mi pare di sì delle industrie del fatto che ci sia meno soldi sicuramente sì ma anche il fatto che alcune persone che prima usavano il calcio probabilmente per altri fini rispetto a quelli sportivi facevano in modo che ci fossero dei guadagni di un certo tipo ci fossero meno controlli perché tanto alla fine mettevano tutto nel cassettone di ferro non pagavamo l'IRPEF ci scrivavamo al campionato non potevamo farlo e tante altre robe che magari Cellino non ha neanche voluto narrarci con una grassa e grossa risata liberatoria quanto schifo che c'è stato in fondo sa perché oggi le squadre sono obbligate sono sempre state obbligate l'abbiamo sentito per mille volte a fare dei milioni di plusvalenza entro il termine del bilancio plusvalenza che ricordiamolo non sono illegali non sono illecite lo sono diventato per un eccesso un eccesso di pratica lecita è diventata illecita punita con una norma generale ignorando quella specifica che non prevedeva quella roba il calcio italiano lo ripeto si sta preparando a una nuova battaglia di questo tipo questa volta se la sono voluti fare se la sono voluta far loro le altre procure stanno iniziando a muoversi adesso è tutto elettronico voglio vederlo cellino bruciare il faldone non sarà più possibile hanno aperto un vaso di pandora non so nemmeno per quale motivo non ne ho veramente idea e domani è il primo passo è il primo passo di una guerra che diventerà guerra che potrebbe diventare guerra e che comunque diventerà secondo me guerra perché qualsiasi sarà domani il resoconto del ricorso che sia l'annullamento dei punti che sia la restituzione dei punti se davvero l'altra procure è iniziata ad indagare in questo momento significa che poi devono andare in fondo e che magari verranno prese decisioni anche diverse rispetto a quelle che sono già state prese per la Juve perché ci saranno più elementi perché ci saranno altre persone che andranno a giudicare perché magari decideranno l'altro Juve banalmente perché il regolamento sportivo non è così preciso non è una giustizia che fai totte quindi la punizione è molto a interpretazione perché tanto poi alla fine che è stata lesa la lealtà del calcio allora sai com'è anche se vuol dire tutto vuol dire niente Calciopoli è stata una pagina nera del calcio italiano necessaria per rimuovere di mezzo diversi personaggi che erano diventati scomodi e che si erano macchiati fino a qua ripeto fino a qua le mani sporche fino a qua alcuni si sono levati di torno e sono usciti dalla scena del calcio italiano altri invece sono ancora lì altri sono ancora lì ci sono alcuni residui diciamo così di Calciopoli che comunque rimangono in serie A rimangono all'interno di alcune squadre perché alcune cose comunque difficilmente riuscirai a cambiarle e stripparle però guarda caso da Calciopoli in poi c'è stata più attenzione da questo punto di vista e guarda caso poi il calcio italiano è diventato decadente il campionato di serie A è passato ad essere uno dei campionati più belli del mondo forse il più bello del mondo fior fior di campioni nei momenti migliori ad essere un campionato invece un po' così diciamo a livello europeo anche qua coincidenza? qualcuno potrebbe dire di sì ma io torno a dire secondo me siete troppo intelligenti per dire sì è una coincidenza chiudo con un'altra riflessione e sarà veramente l'ultima io seguo il calcio perché sono dell'idea che non sia manovrato che non sia pilotato per fortuna non lo seguivo in quegli anni di Calciopoli perché non so sinceramente se avrei la forza di tornare a seguire un calcio con delle pressioni di questo tipo lo diceva non mi ricordo come si chiama magistrato napoletano che quando va allo stadio adesso fa un po' fatica perché dice ma l'attaccante sta andando lì perché il movimento gli impone di andare lì o perché si è messo d'accordo col portiere difensore avversario che qualcosa accadrà c'ha ragione c'ha perfettamente ragione è una domanda lecita che uno deve porsi dopo quello che è accaduto dopo aver vissuto quello che è accaduto quindi ripeto io sono contento di non aver vissuto Calciopoli in prima persona sono contento di essermi fatto un'idea sono contento di non essere nemmeno un estremista di quelli che dice Moggi era super innocente la Juventus era super innocente erano solo le altre che Moggi c'era dentro come tutti Moggi forse anche più degli altri e forse anche questi sono stati motivi che hanno spinto a chiedere qualcosa in più per la Juventus perché vinceva e perché Moggi muoveva tutto ma tutti si affidavano a Moggi tutti anche Pisano per chiedere dei favori arbitrali alla Torres in serie C1 stiamo parlando di cose che vanno oltre la serie A ma penso che banalmente tutti quelli che hanno giocato in categoria sappiano di cosa si sta parlando perché quante volte si è sentito quella venduta la partita questa è partita forte si è salvata e quindi l'ultima non gli serviva quindi l'han venduta calcio è malato nelle categorie più basse malatissimo malatissimo evidente lo sanno tutti e a tutti va bene perché lì ognuno si porta a casa qualche soldino io mi auguro che Calciopoli abbia contribuito a lavare via tutto lo sporco che c'era all'interno delle persone perché davvero il calcio era malato se così non sarà se verrà fuori qualcosa stile Calciopoli con arbitri a così stretto contatto con i dirigenti delle squadre ripeto non so se avrò la forza di continuare a seguire questo sport non ne ho più palli di idea e questo è un po' il resoconto il riassunto di quella che è stata la puntata di Report ieri e la mia opinione su Calciopoli che semplicemente non avevo mai portato sul canale e che ora c'è è un'ora di chiacchierata all'interno di una puntata che ha cercato di raccontare qualcosa di diverso anche per il tifoso della Juventus che ha seguito quelle cose o chi conosce qualcuno che ha seguito quelle cose in quei momenti lì era semplicemente un ripassino generale di tutto quello che è accaduto veramente in quell'estate del 2006 che ha seguito che ha seguito